ciao a tutti oggi vi porterò in un posto che solo poche persone hanno potuto vedere ok state con me la piattaforma di trivellazione che vedrete tra poco è una delle strutture galleggianti più grandi in tutta europa con il nostro gommone abbiamo fatto il peribolo della piattaforma di trivellazione e da lì si nota sicuramente che è una cosa enorme gigantesca finale del giro della piattaforma è una doccia inaspettata fatta con l'acqua di raffreddamento della struttura della piattaforma siamo passati sotto col gommone ci siamo lavati tutti bellissimo grazie a tutti naturalmente è preciso che per tutta la durata del peribolo pochi minuti ma belli e abbiamo mantenuto la distanza di sicurezza tale da non creare nessun fastidio a nessuno nessun pericolo ciao a tutti alla prossima grazie a tutti